Fabrizio Moro ha aperto la tre giorni del Vintage Lux Festival a Grosseto, tre giornate, lo ricordiamo, quella di stasera con Amy Schilla e con altri rapper e domani sera invece il momento dei DJ. Un momento per la città, un momento per tutta la provincia di Grosseto, per stare insieme e per divertirsi. Un evento meraviglioso che Grosseto non c'era mai stato, che Grosseto non aveva mai visto, già ieri sera con Fabrizio Moro veramente ci sono stati tuoni, fulmini e saette, è stato meraviglioso, la coda all'entrata per prendere i biglietti, un qualche cosa veramente di grandissimo, stasera è la serata di Amy Schilla, Caseven e Sina e domani sera chiusura col botto con il DJ 7, Albertino, Molella, Fargetta e Prezioso. Poi eventi corollari, associazioni sportive, benefiche, Avis, la Red Bull, il campione del mondo Van Zandt e tantissimo, il circo, cose meravigliose che Grosseto non aveva mai visto e che Grosseto con la sua presenza ha onorato. Madrina d'eccezione, Selvaggia Roma, per questa festa di popolo l'ha definita il sindaco. Sono molto contenta, è un evento veramente dove specialmente Claudio Vizca ci ha messo tutto, è veramente da fargli un grande applauso. Io credo vivamente che questo festival andrà molto bene, anche perché poi se si è fatto con delle fondamenta come essere una squadra, allora è tutto in discesa poi.